Cari amiche, benvenute al nostro consueto appuntamento con Cardano Cecilia. Noi siamo a Gagliate da oltre 40 anni, ma in tutto questo tempo ci hanno conosciuto non solo i nuvaresi, ma persone da zone limitrofe, infatti arrivano da Milano, da Biella, da Vercelli, da Domodossola, da Varese, ma questo perché? Perché abbiamo sempre mantenuto quello che abbiamo detto riguardo la garanzia, l'assistenza. In questa trasmissione voglio presentarvi una nuova macchina, una macchina che cuce e che ricama. Vediamo la scheda. Neki 2110, la macchina caratterizzata dalla massima semplicità d'uso. Completamente automatica, è indicata anche per l'uso domestico, per essere adoperata anche da coloro che non hanno mai effettuato nemmeno una riparazione. Sul pannello guida appaiono tutte le informazioni necessarie per lavorare senza problemi. Un selettore automatico vi permette di scegliere il punto o ricamo desiderato e di poterlo regolare sia in larghezza che in lunghezza. Tutto il cuore della macchina è in acciaio progettato per durare nel tempo. La Neki 2110 non si arrende davanti a nessun materiale. Dal tessuto più leggero al più pesante. Può cucire sul compensato, spilli, fiammiferi o passanti. Può lavorare sullo chiffon, così come sul jeans, anche su più strati, come potete vedere da queste immagini. Nella macchina sono memorizzati tutti i punti elastici che danno finiture professionali su una grande varietà di tessuti. È così possibile eseguire orli di copertura elastici per la maglina, il comodissimo punto overlock per rifinire e cucire in un'unica operazione anche tessuti particolarmente elasticizzati. Agendo su un selettore si può eseguire lo zigzag elastico per unire due tessuti insieme, con un motivo ornamentale detto punto spiga. Non mancano decorazioni di fantasia, come il punto bambola, dall'esecuzione automatica in cui lavora solo la vostra immaginazione. La macchina inoltre è programmata per eseguire automaticamente le asole, per attaccare bottoni di varia misura, per applicare cerniere lampo anche invisibili o per cucire a due aghi. Questa Neki 2110 può essere trasformata a braccio libero per la cucitura o riparazione di indumenti circolari. Acquistate con fiducia da Cardano Cecilia, ormai è tanti anni che ci conoscete. E ora ci sono i miei figli che proseguono questo lavoro con tanto amore. Ma chi vi dà l'assistenza che vi abbiamo sempre dato? Figuratevi che addirittura dopo 30 anni, se uno non va bene alla macchina, ci chiama, veniamo noi a casa vostra e non pagherete mai la chiamata. Questo lo ripeto ormai da tanti tanti anni e voi sapete tutti che è tutto vero. Infatti Cardano Cecilia vi offre 5 anni di garanzia e un'assistenza gratuita per tutta una vita. Scuole e insegnamenti gratuiti a domicilio, pagamenti dilazionati, supervalutazione del vostro usato. Ricordatevi Cardano Cecilia via Novara 111 a Gagliate. Per qualsiasi esigenza potete telefonare allo 0321 861398. Ricordatevi Cardano Cecilia non è solo un nome, ma è una garanzia per sempre.